Abbiamo degli aumenti con più del 500% sul costo delle imprese. Fino ad oggi questi aumenti sono stati totalmente assorbiti dalla filiera stessa, ma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, questo non sarà più possibile. Motivo per il quale rischiano di andare a impattare in modo significativo sui cittadini e consumatori. E quindi l'intervento che noi stiamo chiedendo da mesi al governo in carica è quello di intervenire direttamente sul costo energetico. Saremo in grado di fare questo, rispetto ai provvedimenti, invece che hanno già fatto altri Stati membri, si crea paradossalmente un principio di concorrenza sleale, perché questi paesi, dalla Germania alla Francia alla Spagna, avranno una capacità competitiva sicuramente maggiore rispetto alla nostra. Io penso che mai come in questo momento, indipendentemente dalle simpatie politiche che ognuno di noi può avere, dovremo essere al fianco del futuro governo per creare delle condizioni perché possono arrivare delle risposte concrete sui nostri bisogni.